Il campionato 81-82 Super Bordon, poi arriva Musella, miracoloso Bergamo Attenzione, fallo, calcio di rigore per il Napoli Il fallo di Bagni su Musella Non ha dubbio Bello, parte Guidetti, 1-1 Ancora Napoli pericoloso, c'è una deviazione Poi il salvataggio sulla linea di Centri Fischia Lobello, parte per Manelli, sul fondo Ancora Inter in avanti, alla ricerca del gol del 2-1 Pallone dentro per Asserena, l'uscita di Castellini Altro calcio di rigore questa volta per l'Inter Fischia Lobello, Altobelli contro Castellini Parte Altobelli, pallone in rete Attenzione però, bisogna ripetere Si rinnova il duello, parte Altobelli con il destro Il palo, incredibile errore di Altobelli Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti